E l'Oscar Italiano della Sicurezza, e ad aggiudicarselo nella categoria Strutture Storiche, è stata l'azienda andriese Alarm Sud. La H d'Oro, così si chiama il premio che riprende l'iniziale della Fondazione Rubi, che si pone la missione di tutelare il patrimonio artistico italiano attraverso impianti di sicurezza sempre più all'avanguardia, impreziosisce la bacheca dell'azienda andriese che ha meritato quest'ultimo riconoscimento, presentando un progetto realizzato per garantire la sicurezza su una masseria storica del territorio murgiano. Un impianto di sicurezza e videosorveglianza ha una masseria storica della nostra zona che si chiama Lama di Luna. Bisogna essere molto attenti alle strutture ed avere la cura di mimetizzare al massimo quelli che possono essere la parte strutturale. in modo da non alterare la struttura storica. Operando nel settore degli impianti di sicurezza da 40 anni, l'Alarm Sud di certo non ha bisogno di riconoscimenti per presentarsi al pubblico. In queste sfide però si cimenta per misurare le competenze sviluppate, per capire a che punto si è nella crescita dell'azienda. Anche negli anni passati, nel 2008 e nel 2017, abbiamo avuto un altro riconoscimento di altre categorie. Dalle origini ad oggi è decisamente cambiato l'approccio di sviluppo aziendale. All'epoca bisognava inventarsi, anche come realizzare la sicurezza, perché non avevamo le strutture attuali, anche gli attrezzi non erano di quelli che possono essere utilizzati oggi. E anche le tecnologie bisognava fare tutto manualmente, anche le centrali bisognava realizzarle con dei relais. Insomma era veramente una fantasia all'epoca. Essere sempre pronti a garantire risultati in tempi celeri può fare la differenza per i clienti più esigenti. Così è stato la scorsa estate, quando per completare l'iscrizione della Fidelisandria al campionato di Serie C era necessario che lo stadio fosse dotato dei sistemi di videosorveglianza prescritti. E se agosto è tempo di vacanza un po' per tutti, l'azienda andriesi ha invece lavorato per garantire che la principale società sportiva della città potesse presentare tutte le carte in regola per l'avvio della stagione, dimostrando di aver acquisito e mantenuto quell'approccio professionale che insieme alla competenza fa della Alarm Sud una risorsa per il territorio. Questo punto di svolta non poteva che arrivare con l'approdo della nuova generazione nella gestione aziendale. Lì si è reso necessario un approccio più professionale, ma si può dire in linea di principio che quando entrano i figli in azienda entra area nuova. Ma è anche una fase particolarmente delicata in cui trasferire l'esperienza e dare fiducia è la chiave per rilanciare l'attività. In azienda abbiamo dei ruoli tipici dell'azienda più che familiari. È bello perché comunque trasmette la sua esperienza, il suo sapere, ma nello stesso tempo io e mio fratello cerchiamo di portare novità, questa ventata di innovazione più che altro, non solo tecnologica, ma anche in termini proprio di idee, di nuovi modi di fare. Che punto della sua storia è all'argomento? Diciamo che è un buon punto, ma abbiamo ancora tanti traguardi da raggiungere, tanti obiettivi. Vuoi un po' la nostra giovanità, vuoi anche la nostra volontà proprio di raggiungere sempre gli obiettivi, ma non parlo solo in termini di fatturato, per carità, di nuova clientela che ci fa sempre piacere che acquisiamo, ma proprio in termini di qualità, di quello che vogliamo offrire ai nostri clienti, di nuovi servizi. È così che nascono la volontà e la necessità di esplorare nuove frontiere che al tempo dell'intelligenza artificiale si chiama Domotica, o nel caso specifico Exxo, il nuovo ramo d'azienda che l'Alarm Sud propone per unire sicurezza, servizi ed estetica. Vorremmo arrivare a dare ai nostri clienti sempre e comunque dei sistemi aggiornati. Il nuovo invece ci porta ad un'apertura di un altro ramo aziendale che si occupa prettamente di impianti elettrici sia civili che industriali con un'attenzione particolare ai sistemi di Domotica. Domotica che per noi è racchiusa anche in una certificazione che abbiamo ottenuto che è quella del Connex, il protocollo mondiale della Domotica, quindi ci permette di poter mettere mani sia a progetti già realizzati che a nuovi progetti. Con questa formula, con le conoscenze più che altro di questo settore, noi possiamo essere di supporto a studi di progettazione e studi di architettura, perché comunque tutto ciò che è Domotica non passa solo per la parte prettamente tecnica, ma è anche riportata in un aspetto estetico.